ciao ti do il benvenuto in questo nuovo video dove ti parlo del nuovo corso di radiestesia dedicato proprio alla radiestesia spirituale questo corso è un corso nel quale apprenderai quelle che sono le basi della radiestesia per andarlo ad applicare a tutte le discipline che tu puoi seguire nell'ambito spirituale ed energetico che è quello di cui io mi occupo è un corso che potrai seguire sia che tu abbia già qualche esperienza con il pendolo sia che tu sia all'inizio perché partiremo proprio dal principio e andremo proprio a vedere che cos'è la radiestesia andremo anche un po' sfatare alcuni miti sulla radiestesia vedremo quali sono i campi di applicazione gli strumenti che possiamo utilizzare i vari tipi di pendolo parleremo di questo pendolo ma anche di molti altri che cos'è che va a influenzare la ricerca radiestesica come prepararti alla pratica della radiestesia vedremo che tipo di domande possiamo fare alla radiestesia e ti spiegherò come porre le domande che strumenti utilizzare per poter chiedere praticamente qualsiasi cosa al tuo pendolo e quindi a diciamo a questo sistema vedremo come testare la tua propensione in un determinato momento alla radiestesia e faremo anche degli esercizi per familiarizzare con l'utilizzo del pendolo che vedrai essere in realtà molto semplice ti parlerò del testimone della sua importanza del perché va sempre utilizzato vedremo quelli che sono gli utilizzi principali del pendolo che nell'ambito della radiestesia spirituale utilizziamo quindi vediamo come utilizzare il pendolo per la protezione energetica per andare a canalizzare le guide quindi canalizzare gli esseri di luce vedremo come andare a caricare scaricare gli oggetti una tecnica molto importante che utilizzerai sono sicura tantissimo come grazie al pendolo e la radionica possiamo andare a creare delle acque energetiche e vedremo come fare dei trattamenti energetici per esempio vedremo come fare il trattamento per andare a riequilibrare il chakra i chakra con il pendolo e vedremo anche come andare a cercare per esempio sulla colonna vertebrale delle disfunzioni oppure come andare a cercare il rimedio più adeguato dal punto di vista fitoterapico degli essenziali dei cristalli e così via vedremo anche come andare a misurare l'energia di una persona di un oggetto di un ambiente per andare con la tecnica della caricarica dello scarico a proprio a ripristinare la sua energia vedremo anche come utilizzare il nostro corpo come se fosse uno strumento di radiestesia e infine in questo corso riceverai anche un'attivazione energetica che ti permetterà di andare a potenziare la tua capacità di canalizzare attraverso il pendolo perché il pendolo comunque è una ci permette di fare una sorta di canalizzazione e quindi anche di andare a potenziare il legame che hai con i tuoi pendoli i tuoi strumenti della gestesia quindi questa è proprio sarà un'attivazione energetica che io preparerò su di te qui vedi questo bellissimo librone che è bello corposo e più di 100 pagine e questo è realizzato con la stampa di tutti i quadranti che riceverai per andare a fare la tua ricerca di radiestesia come puoi vedere all'interno trovi dei quadranti per qualsiasi tipo di misurazione ci sono quadranti per andare a testare i chakra gli oli essenziali i meridiani delle liste per andare a lavorare sulle convinzioni limitanti vedremo per esempio come andare a scegliere rimedi gli oli essenziali i rimedi omiopatici andremo a vedere come capire con quale essere di luce maestro stiamo canalizzando come lavorare con le leggi universali piuttosto che quali abilità extrasensoriali vanno sviluppate troverai tantissimi quadranti veramente legati all'astrologia legati agli angeli agli arcangeli ai sette raggi delle fiamme sacre quindi ti mostrerò durante il corso in anche tutti questi quadranti e come vanno utilizzati questa è una risorsa che tu potrai stampare che rimarrà sempre tua e che potrai utilizzare nella tua pratica oltre a questo riceverai altro materiale quindi dei quadrati di radionica dei protocolli scritto il protocollo scritto per esempio su come andare a riequilibrare il chakra in modo molto semplice un protocollo che preparerò per te le corrispondenze con diciamo i vari le varie sezioni della colonna vertebrale per andare a indagare quale parte del corpo uno squilibrio energetico quindi vedremo tante tante cose insieme questo ovviamente era per farti capire di che si tratta se vuoi iscriverti al corso il corso è disponibile per l'iscrizione da subito basta che guardi qui sotto nel box descrizioni di questo video il link dove trovi tutte le informazioni per iscriverti al corso e per fare quindi questo nuovo salto in questa nuova tecnica che in realtà si accorda perfettamente in sintonia con qualsiasi pratica energetica e vedrai che ti sarà davvero d'aiuto è una tecnica molto pratica che ci permette davvero di sfruttarlo in modo versatile in ogni pratica energetica e spirituale spero che questo corso di piaccia fammi sapere cosa ne pensi aspetti i tuoi commenti e tanta luce grazie grazie